Se sei un vero amante della nostra gloriosa squadra nerazzurra, non puoi perderti questa informazione esclusiva. Vogliamo iniziare chiedendo un favore speciale a tutti voi che state guardando questo video, se non siete ancora iscritti al canale, assicuratevi di iscrivervi subito e di attivare le notifiche per non perdervi nessun contenuto sulla nostra amata Inter. E non dimenticare il mi piace, perché aiuta molto il canale a crescere e ci incoraggia a portarti notizie più interessanti come questa. Adesso andiamo dritti all'argomento che ha messo in subuglio tutti gli interisti. Il nostro caro portiere rumeno, Yonut Radu, potrebbe lasciare temporaneamente l'Inter, ma non preoccuparti, ci sono anche buone notizie. La sua assenza dal tour in Giappone non è stata una semplice coincidenza, amici miei. In effetti, eravamo nel bel mezzo di un'entusiasmante trattativa per il futuro del talentuoso guardiano rumeno, e finalmente abbiamo raggiunto un accordo che promette di scuotere le cose. Secondo informazioni attendibili, l'Inter ha sistemato tutto con un prestigioso club della Premier League, il Brand Mouth. Proprio così, l'Inghilterra sarà la meta momentanea del nostro idolo Radu. Ma niente paura, il trasferimento è solo in prestito, con diritto di riscatto, il che significa che avremo modo di riaverlo presto, ancora più forte ed esperto dopo questa occasione. È con immensa emozione che vi comunichiamo che domani Radu volerà in Inghilterra per le visite mediche. Questo è un passo importante per far sì che continui a brillare in campo e torni all'Inter ancora più preparato a difendere la nostra porta. Crede che il prestito gioverà alla crescita del nostro portiere rumeno? Lascia i tuoi commenti qui sotto e continuiamo questa appassionata conversazione sul promettente futuro della nostra Inter. Non dimenticare di condividere questo video con tutti i tuoi amici interisti in modo che tutti possano rimanere aggiornati su questa incredibile notizia. Insieme, siamo più forti e uniti verso nuove vittorie e glorie per la nostra Inter, Forza Inter!